Andate ormai oltre la bella esperienza di Palermo e smaltite le quasi 30 ore di viaggio tra andate e ritorno, il Sant'Omaso inizia a preparare la prossima sfida di campionato. Appuntamento fissato domenica alle ore 15 ancora allo stadio Partenio Lombardi. I grifoni si appressano ad affrontare un'altra siciliana, il Messina, o meglio la CR Messina, perché di messinesi nel girone dei Biancoverdi ce ne sono due. L'altra, l'FC Messina, arriverà alla 14esima giornata di campionato, squadra che negli ultimi anni si è sicuramente resa più nota per aver disputato diverse stagioni in Serie A negli anni 2000 e raggiungendo anche un ottimo settimo posto. La CR Messina, invece, rimase in attività dal 1947 al 1998 in mezzo a due stagioni in Serie A, precisamente nel 63-64 e nel 64-65, anno in cui la compagine siciliana venne retrocessa in Serie B. Il fallimento del 98 sembrava un punto di non ritorno, invece nel 2013 ricominciò l'attività agonistica ripartendo dalla Lega Pro. San Tommaso e a CR Messina, due società con storie diametralmente opposte e che si ritroveranno tra pochi giorni a contendersi tre punti fondamentali, con i grifoni che dopo due buone prestazioni cercano la prima vittoria in campionato e con i siciliani che proveranno a smuovere la classifica, che per il momento segna ancora lo zero nella casella punti.